Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video E oggi andremo a scoprire uno dei miei mondi Realms con Samu Samu è offline come vedete, si, a parte i soldi che vedete voi Entriamo qui Ehm, signori, non funziona Ok, questo video non lo taglierò, lo pubblicherò direttamente dalla Play Non lo editerò neanche, quindi scusate un po' l'effetto un po' bruttarello del video Però, è perché, edito altri video intanto Allora, vediamo, aspetta, che blocco è questo? Vabbè, lasciamo stare ragazzi, ho rotto perché voglia di entrare e non ne avevo Allora, aspetta che ripiazziamo, è lo stesso se non è lo stesso blocco Aspetta Samu non se ne accorge No, mannaggia È brutta questa però Ok Comunque, questo è il nostro bunker, siamo nel Realms di Samu Come ho già detto, adesso è un po' offline Qua dobbiamo finire tutte le camere, questa dovrebbe essere tipo camera di Samu Queste, di altri giocatori che inviteremo poi nel Realms Come vedete è il Realman, una texture, poi ha, vabbè, delle mod Vabbè, posso dovermi sulla panchia, è lo stesso E qua ci sono, c'è camera mia che è, a quanto pare, l'unica camera che abbiamo appena fatto Come potete vedere, e... beh, questa è, mamma mia, la texture dell'alambicco Vi faccio vedere anche, ad esempio, ragazzi La spada in legno non esiste, c'è, c'è soltanto la golf club E qua c'è... capite adesso, voi Ecco, questa è una cosa strana, sì, lo so, ci sono i soldi Ehm... mi sono messo la collanina Guardate che bello che sono Adesso vediamo un po', esploriamo Vi faccio vedere, tipo, qua Io avevo fatto questo nella mia camera Allora, voi vi starete chiedendo Che cosa c'era dentro questa teca? Ve lo dico io subito C'era il mio mob preferito di Minecraft Che è il Blaze Se qualcuno insulta Blaze, è brutto No, sto scusando, non è vero Sono i miei gusti Ma non ho i propri gusti Allora Vediamo Dove sono i Blaze? Qui No, più giù Ecco qua No Mannaggia che si rimette sempre in Paceful, sto mondo Ah Sì, però anch'io che sbaglio i domandi Mmm... Ma perché sbaglio anche... Ma va bene, lo stesso Ah... Mettimi sta Paceful... Oh... Però... Io sono talmente... Vabbè, raga Lasciamo stare Lasciamo stare Allora, li mettiamo... Ah... Sto Blaze qua dentro Poveretti Eh, però Io avevo detto dentro, però Non fuori Oh, eccolo lì Il nostro signor Blaze È lì E per questa serie Spero che vi piaccia E... Questa serie Mannaggia, non riesco a uscire Questa serie È una serie dove andremo a vedere dei mondi Di me, Samu Di un po' con tutti i miei amici L'uscita dal bunker Comunque è questa Eccolo il carretto Che arriva Eh, però se non lo becco Intanto che l'aspetto Spero che vi piaccia questa nuova serie Dove andiamo ad esplorare dei miei mondi Che non faccio mai vedere in video Così, tanto per Per passarci il tempo, insomma Comunque quello che vedete Giocatore online sarebbe Samu E qua si esce dalla base E poi per rientrare Basta andare dritto per di qua E qua Eccoci qua Vedete? Eh Però Ah, ecco Comunque Questa è l'entrata E niente, raga Noi ci vediamo in un prossimo video Spero che questo video Di questo mondo vi sia piaciuto E niente, raga Ciao, ciao 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 Grazie.